Siamo nel clou della vendemmia, siamo nell'area vestina, terra di vini importanti e siamo qui con Rocco Pasetti. Le vendemmie, è vero, non sono tutte uguali, ma quella di quest'anno com'è? Ma per me questa è la quarantesima, la trentanovesima vendemmia per la precisione. Decisamente non ce n'è stata una che è stata simile a quella successiva o a quella precedente, guai se così fosse. La natura è bella perché si diversifica nella sua impostazione ma anche nei suoi risultati. Anche questa è una vendemmia da ricordare, da ricordare perché forse ha avuto, siamo passati da un eccesso a un altro, l'anno scorso una vendemmia particolarmente sbilanciata e forse troppo umida. Quest'anno forse il tempo è stato troppo clemente, in alcuni casi forse un po' arido. Gli ultimi giorni di questo clima sariano sicuramente non ha avvantaggiato la pianta che di fronte ad una traspirazione eccessiva soffre. Ecco, la qualità poi alla fine è data da una produzione controllata, diciamo che quest'anno la qualità si è controllata da sé perché la siccità fatta così che la pianta andasse avanti con un certo equilibrio, ma soprattutto la qualità delle uve, in particolare le uve rosse, un po' meno le uve bianche perché l'eccessivo calore ha in un certo senso bruciato la parte aromatica, anche se poi usciranno altri aromi in fase di affinamento dei vini. Per il Montepulciano sarà un'annata molto molto particolare per certi montepulciani molto strutturati, a vantaggio della gradazione alcolica che non è tutto, un'ottima maturazione fenolica che sono le basi poi per avere un Montepulciano molto longevo e caratteristico di questo territorio bellissimo che è l'area Vestina.